Ciao a tutti, sono Guendalina Romagnoli e qui all'Italia Chef Academy ho frequentato il modulo 3 del corso di pasticceria. Sin da quando sono piccola ho avuto una grandissima passione per la pasticceria e finalmente, tre mesi fa, ho deciso di iscrivermi in questa scuola. Qui all'interno dell'Italia Chef Academy ho trovato un ambiente meraviglioso, dagli chef a tutti gli assistenti. Alla fine di questo percorso andrò a fare un tirocinio presso il ristorante Acquolina, una stella Michelin sotto la direzione dello Chef Daniele Lippi.